Premo il pulsante. Probabilmente vi starete chiedendo cosa sta succedendo qui. Beh, questo è un esperimento. È stato pazzesco! Come anche questo. E questo. Giù! E io sono Ada Twist. Siamo scienziati e migliori amici. E vorrai fare ad un'ai Le pote si formulerai Lato a te si proverai Che ada ad un'attenzione Lato a te si proverai